Il figlio di un mafioso pentito che collaborava con la giustizia, questo non rientra nel manuale del mafioso, quel manuale con le regole di mafia, le loro regole, le stesse che seguiva mio padre quando era uno di loro, quelle regole che vanno applicate, loro non possono permettersi i traditori, quelli, i pentiti, vanno messi a taggere, io fui lo strumento per zittire mio padre, io sono Giuseppe di Mantieo.